Volete scoprire come ottenere un kit a tema Super Mario Bros su Yo-Yo Busy Life World? Allora guardate questo video! Come prima cosa apri l'app e clicca qui in alto dove ci sta una scritta free e l'immagine della principessa Peach, appunto la principessa di Super Mario. Come vedete ora vi uscirà questa schermata diciamo con scritto Yo-Yo Daily Life, un po' come sempre. E poi se scenderete troverete questo trailer che però è uno spoiler quindi cerchiamo di vederlo il meno possibile per non spoilerarci quello che troveremo nel nostro kit a tema Super Mario Bros. Allora come in quello di Harry Potter per ottenere il nostro kit dovremo cliccare sulla scritta ricevere. Una volta aver cliccato su questa scritta l'app ci teletrasporterà alla posta come vedete qua l'immagine e cliccando sul solito pulsante dei regali giornaliari potrete riscattare il vostro kit a tema Super Mario Bros. Quindi ora vado nella mia casa su Yo-Yo Daily Life World e vi faccio vedere cosa contiene il kit. Il pacco che troverete alla posta sarà fatto così a forma del cubo quello misterioso dei videogiochi di Super Mario. Ora se lo toccherete lo avrete aperto e ecco qui quello che troverete un cappello da Super Mario che però al posto della M di Mario abbiamo la Ixilon di Yo-Yo. Poi questa cuffietta che credo che sia da mettere ai bambini piccoli aspettate che ve li faccio vedere credo che si dovrebbe mettere ai bambini piccoli come questa qui però io non riesco a metterla. Poi abbiamo questo che è sempre un accessorio da mettere in testa poi la corona da principessa Peach il naso con i baffi da Mario questo piccolo fungo. Poi questo Yoshi che in realtà ha una particolarità che purtroppo non vi posso far vedere nel video. Prende questo Yoshi in realtà era un uovo un uovo quelli verdi e bianchi che ci sono magari a volte anche di scenario nei videogiochi di Mario Bros. Ecco se si toccava si schiudeva usciva Yoshi purtroppo l'ho toccato e quindi non lo posso più far tornare l'uovo quindi non ve lo posso far vedere. Però comunque voi non troverete Yoshi ma troverete l'uovo toccando l'uovo diventerà Yoshi. Poi abbiamo una babomba mi pare si chiamasse tipo che non credo scoppi davvero no. Poi l'oggetto uno degli oggetti più particolari che vi faccio vedere dopo e poi gli ultimi due credo questo stura lavandini che voi vi chiederete ma che c'entra con Super Mario? Perché vi ricordo che Mario e Luigi i due fratelli sono due idraulici e quindi lo stura lavandini c'entra. E per finire l'ultimo che è questa stellina che non so bene cosa c'entri con Super Mario però credo tipo perché ci stava tipo in un videogioco rosa linda che tipo boh diciamo che c'erano queste stelline in un videogioco che non ricordo come si chiamavano. Quindi c'entra un po' con Super Mario e diciamo che è una specie di pupazzo forse si può mettere sul letto? No? Vabbè e ora vi faccio vedere questo tubo che particolarità. Se lo clicchiamo esce la pianta quella di Super Mario appunto che non ricordo bene come si chiama però comunque molto carina. E niente questo era il tutorial su come ottenere un kit di Super Mario Bros su Yaya Busy Life World. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!